E' stato tempestivo e risolutivo l'intervento dei carabinieri della tenenza di Scicli che ieri ha permesso di individuare e deferire in stato di libertà l'autore di un furto aggravato consumato all'istituto comprensivo Elio Vittorini, plesso distaccato di Sampieri. L'episodio denunciato dal personale scolastico nella mattinata di lunedì alla riapertura della scuola dopo il fine settimana ha dato quindi l'impulso alle indagini condotte dai militari dell'arma che avvalendosi dell'ausilio dei filmati della videosorveglianza hanno individuato l'autore del reato e preceduto immediatamente a perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Il responsabile, un 26enne ciclitano celibe, disoccupato e pregiudicato, si sarebbe introdotto nell'edificio tramite frazione della porta d'ingresso secondario all'1.30 di notte circa del 6 novembre e in una mezz'ora avrebbe asportato due computer portatili e una cassa acustica per un danno complessivo di circa 2.000 euro. Nel medesimo contesto operativo sempre i carabinieri hanno anche proceduto a individuare e denunciare in stato di libertà per incaudo acquisto un altro soggetto trovato in possesso dei articoli rubati. La refurtiva, prontamente recuperata, è stata quindi restituita all'istituto scolastico in questione. Si tratta del secondo episodio a distanza di poco più di una settimana che vede la scuola quale bersaglio di furti e atti vandalici. La sera del 31 ottobre infatti sempre i carabinieri della compagnia di Modica erano intervenuti nell'istituto comprensivo Raffaele, poi domani di Modica, dove avevano sorpreso due minori e una maggiorenne introdursi nell'edificio danneggiando una finestra laterale. Nell'occasione i responsabili erano stati deferiti in stato di libertà per denaggiamento e violazione di domicilio. Il deputato Modicano Nino Minardo della Lega, eletto presidente della Commissione Difesa della Camera. Si sono infatti insediate le 14 commissioni permanenti della Camera che hanno proceduto all'elezione dei rispettivi presidenti. Nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia Giulio Tremonti guiderà la Commissione Esteri, Giuseppe Mangialavoli la Commissione Bilancio, appunto il leghista Nino Minardo per la Commissione Difesa, mentre il partito di Meloni si aggiudica anche la giustizia con Ciro Maschio. Rispettati gli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra, sette commissioni vanno a Fratelli d'Italia, giustizia, finanze, esteri, cultura, trasporti e ambiente. Quattro alla Lega, difesa, politiche dell'Unione Europea, agricolture e attività produttive, tria forza Italia, affari costituzionali, bilancio e affari sociali. Tutto questo mentre i BIG scegliono invece le commissioni con competenze estere. Il segretario del PD Enrico Letta siede in commissioni politiche europee, mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, opta per la Commissione Esteri. Sceglie la Commissione Esteri, anche il presidente d'Italia Viva, Ettore Rosato, tra gli ex ministri Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza siedono rispettivamente nelle commissioni attività produttive, esteri e cultura Maria Carfagna in affari costituzionali. Esprimiamo viva soddisfazione, affermano intanto i deputati regionali della Lega per l'elezione di Nino Minardo a presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. A Minardo auguriamo, continuano, buon lavoro certi che svolgerà le sue funzioni con grande dedizione e impegno considerate le competenze dell'organismo parlamentare chiamato a presiedere. Intanto, il momento è delicato sempre per la difesa nazionale e per la sicurezza a livello globale. Da una parte c'è la guerra in Ucraina, con l'attenzione che le nostre forze armate dovranno dedicare ad assicurare gli impegni di sicurezza sul fianco est dello spazio europeo. In questo quadro si inseriscono le relazioni e il posizionamento del nostro paese all'interno delle alleanze di riferimento, Nato e Unione Europea. Sicuramente la posizione atlantista non è in discussione, ma più problematico potrebbe essere procedere lungo il tortuoso percorso di costituzione della difesa europea. Scoprire come Tommaso Campailla riuscì a mettere insieme le conoscenze umanistiche e quelle derivate dalle scienze moderne. E' il senso del seminario rivolto agli studenti dell'Iceo Classico di Modica e all'intera cittadinanza che è stato presentato proprio ieri a Palazzo degli Studi. Siamo al primo appuntamento con Tommaso Campailla. L'Istituto Galilei Campailla di Modica, in collaborazione con la Fondazione Salvatore Calabrese, con l'Unicity Catania e l'Istituto di Storia Patria, ha organizzato sia per quest'anno che per i prossimi anni, motivo per cui questo è lo start, una rilettura del nostro genius loci, Don Tommaso Campailla. Perché Campailla? Perché è l'anima dei nostri tre indirizzi, dell'indirizzo classico, dell'indirizzo scientifico e artistico. Un genius loci che non è soltanto il titolo di una scuola, ma è veramente un esempio, un modello in quanto poeta, filosofo, scienziato, uomo di cultura, medico. Campailla è stato tutto questo, cioè tradizione e innovazione. Campailla ha fatto della tradizione della razio studiorum gesuitica l'innovazione per i suoi tempi. Ecco perché oggi Campailla ha ancora senso. Per quanto sia ostico, difficile alle giovani menti rileggere e ripercorrere i passi dei poemi e delle opere di Campailla, questo deve essere uno stimolo affinché la cultura crei identità. Oggi in un momento in cui c'è una fortissima e pericolosissima crisi di identità. L'identità è data dalla nostra cultura, dalle nostre radici. Non possiamo costruire il nostro futuro se non sappiamo assolutamente chi siamo. Quindi rivedere, ripercorrere qualcuno che più di, diciamo, tre secoli fa è riuscito a compendiare quello che oggi tutti i programmi ministeriali auspicano, umane littere e scienza, nel migliore modo possibile. Riscoprire Campailla partendo dal liceo classico di Modica che è intitolato al suo nome. Un grande intellettuale, un filosofo, uno scienziato, un uomo che ha dato sicuramente il sigillo alla nostra città modica di città colta ed europea. Stiamo cercando, come Fondazione Salvatore Calabrese, che oggi gestisce il Museo della Medicina dedicato proprio a Campailla, di ritornare a studiare questo complesso personaggio, le sue opere. Stasera un illustre collega, professore di storia della filosofia a Napoli, ripercorre la diffusione del pensiero cartesiano, cioè del più grande filosofo moderno, in Europa e ci ricorda come proprio in Italia meridionale e in Sicilia il pensiero cartesiano nella seconda metà del Seicento, nella prima metà del Settecento, una grande diffusione. Campailla è il più grande divulgatore e filosofo delle idee di Cartesio. Va anche oltre Cartesio, va verso Galilei, va verso un pensiero scientifico moderno. Quello che qui sottolineiamo, oltre all'aspetto filosofico, è il contributo notevolissimo che Tommaso Campailla diede agli studi della medicina attraverso la diagnosi della sifilide, cioè della malattia venere, allora molto diffusa in tutta Europa, e della sua cura, una cura che Campailla sperimentò a partire dal 1698 attraverso le fumigazioni mercuriali, cioè mettendo insieme mercurio, cinabro e altre sostanze, facendo in modo che i malati stessero in questa stufa nella quale venivano inseriti. Il Museo Campailla della Medicina di Modica, che invito tutti a visitare, è uno straordinario reperto di questa medicina scientificamente condotta, che non ricorre più agli amuleti o alle invocazioni religiose, ma applica metodi di cura. Filosofo e scienziato, il pensiero moderno passa proprio attraverso Tommaso Campailla e la sua opera. Stamattina siamo nel cuore di Ragusa, proprio qui alle mie spalle, i locali di Vocri Onlus, una casa di prima accoglienza presente a Ragusa da 30 anni. Punto di riferimento non solo per i ragusani, ma anche per tutta una serie di immigrati, di persone in cerca di integrazione che hanno bisogno di aiuto e quando hanno bisogno di aiuto, Vocri c'è. Punto di riferimento appunto. Ne parliamo proprio con il Presidente Salvatore Crescione. Presidente, quindi quali sono le vostre attività qui da 30 anni? Dunque, le nostre attività sono sorte come risposta a dei bisogni che venivano manifestati dai cittadini e dalle persone in difficoltà. La casa si rifà a Sant'Angela Merigi, perché è una donna del Cinquecento, che è la fondatrice delle Orsoline, che si chiama Compagnia di Sant'Orsola, questo gruppo da un punto di vista religioso che praticamente si occupava già nel Cinquecento dei problemi delle persone che hanno più bisogno, come le ragazze abbandonate, i bambini, eccetera. L'idea è sorta alla nostra ideatrice e fondatrice che è Concetta Scribano, la quale era una maestra che ad un certo punto si accorsa che dei suoi alunni erano per strada, però non riuscivano poi a scuola a rendere. Si è chiesto il perché, allora ha cominciato con un dopo scuola per sei bambini. Da questo dopo scuola lei è passata al problema delle famiglie, quindi si è accorto del perché i ragazzi erano in giro, i genitori lavoravano, il problema è che una famiglia ha alloggio, affitto, luce, eccetera. E quindi praticamente da quest'altro bisogno si è passata al secondo problema, quindi aiuto non solo ai bambini ma alle famiglie. Allora l'aiuto come? Allora indumenti, si è cominciato col discorso di raccogliere indumenti o utenzi rivari che servivano alle famiglie perché praticamente tante famiglie necessitano quasi di tutto. Per cui questo è stato un altro impegno che lei si è preso. ad un certo punto, logicamente da sola non ce la poteva fare, ha cominciato a invitare le sue colleghe a darle una mano. Poi un po' alle persone che lei conosceva, amici, eccetera, che pian piano si sono aggregati. Attualmente siamo più di 60 volontari, no? Abbiamo 25 alunni, ci ne sono un'altra ventina in lista di attesa perché i locali sono quelli che sono, quindi dobbiamo purtroppo dire di no, non possiamo ricevere tutti perché dobbiamo fare il servizio quindi deve essere fattibile, se non abbiamo dove farlo è inutile. E quindi questo è un pochino il pane del giorno prima, per esempio, come è sorto? È sorto da un problema concreto che si è presentato a questa concetta scribana, la quale appunto poi ha aperto un centro ascolto in cui appunto ascoltava le esigenze delle persone. Vicepresidente, mi rivolgo a lei. Sono sempre di più le persone che si rivolgono a voi? Perché le chiedo, perché c'è stata la pandemia, l'inflazione? Insomma, sono tempi difficili ora al caro Bolletta. Insomma, come stanno le cose? Il Presidente mi diceva il 50%, quasi il 50% è composto da ragusani. Sì, per il resto persone provenienti dall'area del Mediterraneo o dall'Albania. Noi siamo riusciti a essere operativi anche durante la pandemia. Abbiamo collaborato con la Caritas, abbiamo posto nei supermercati dei carrelli solidali in cui le persone mettevano la spesa e abbiamo distribuito tantissimi pacchi spesa. La gente viene, avremmo bisogno di nuovi locali per accogliere tutti dei magazzini più ampi, però siamo contenti di quello che riusciamo a fare. Lei a microfono spento mi diceva, io anziché farmi vedere preferisco fare. Sì, chiaramente. È la nostra un po' filosofia. Non amiamo farci vedere o quant'altro. L'altro giorno è venuto il sindaco, ci ha fatto visita, ma poi il passaparola fra le persone è la cosa che ci gratifica di più e che ci permette di andare avanti. Ecco, vi chiedo, voi siete disponibili per tutti, ma sono in tanti ragusani ad aiutare voi, ad aiutare gli altri? Sì, noi siamo intanto 60 volontari, più chi occasionalmente ci viene a dare una mano, ma le persone accorrono volentieri e generosamente quando facciamo delle campagne di raccolta coperte, indumenti o a genere alimentare. Da questo punto di vista Ragusa ha un grande cuore, veramente. Bene, la ringrazio. E allora, da Ragusa è tutto. Come avete sentito, questa è una casa pronta ad accogliere e ad aiutare famiglie, donne in difficoltà, bimbi con attività di doposcuola, pane del giorno prima, mobili o qualsiasi altra attività di supporto che permetta di aiutare quando ce n'è di bisogno. Pronti a intraprendere iniziative estreme come l'occupazione ad oltranza della sede periferica dell'IRSAP di Ragusa. E' quanto afferma adesso il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, alla luce dello stallo in cui ancora versa la vicenda legata al porto di Pozzallo. Da più di due mesi, infatti, il comune ha chiesto all'IRSAP la disponibilità di un'area di 10.000 m2 nell'agglomerato industriale modica Pozzallo per adibirla ad area di cantiere per la realizzazione del progetto definitivo della messa in sicurezza del porto di Pozzallo. A tutt'oggi, ricorda il sindaco Ammatuna, nonostante le ripetute sollecitazioni, non si è avuto ancora nessun riscontro da parte dell'ente regionale quando i lavori sono stati finanziati per un importo complessivo di 77 milioni di euro. Non si può non sottolineare inoltre, continua Ammatuna, che il progetto di ammogliardamento della strada provinciale Pozzallo-Ispica, che collega lo svincolo autostradale con la circonvalazione della zona industriale, finanziata anch'esso per un importo di 19.200.000 euro, è bloccato per il ritardo di due pareti della strada regionale, territorio e ambiente. Sono ritardi e inerempienze gravissime che rischiano di penalizzare un intero territorio. A metà ottobre, infatti, si ricorderà che l'ufficio regionale per le gare d'appalto di Ragusa aveva avviato la procedura negoziata per affidare i lavori di manutenzione straordinari del porto di Pozzallo programmati dall'assessorato regionale alle infrastrutture. A darne notizia è da stato Marco Falcone, riconfermato deputato regionale di Forza Italia già assessore alle infrastrutture. Avevamo recuperato e stanziato oltre 4 milioni di euro, aveva dichiarato Falcone, per dare una concreta risposta alle aspettative dei cittadini e degli operatori di uno dei porti più importanti della Sicilia, purtroppo a lungo trascurato ma con noi tornato centrale strategica portuale isolana. Ma sullo stesso porto di Pozzallo continua anche e ancora a far discutere la questione in merito alla gestione dell'infrastruttura iblea che transiterebbe all'autorità portuale della Sicilia orientale che oltre al porto di Augusta, sede principale, comprende anche il porto di Catania. La preoccupazione è davvero tanta perché non conosciamo ad oggi, ha ricordato a Matuna, la posizione della regione siciliana che non ha diramato nessuna nota ufficiale e non ha provveduto a consegnare il porto al nuovo gestore. L'emendamento presentato doveva essere completato con la modifica nella composizione del comitato di gestione che avrebbe anche dovuto includere la rappresentante del comune di Pozzallo. Da un lato, continua il primo cittadino, il legislatore si preoccupa di ampliare l'estensione territoriale aggiungendo un porto come quello di Pozzallo che nell'ultimo anno ha registrato record importanti per numero di approdo di navi, per movimentazione di merce e trasporto passeggeri e che rappresenta un volano per l'economia del suddestro della Sicilia. Dall'altro, una realtà come la nostra non avrà nessuna rappresentanza, conclude a Matuna, in seno all'autorità di gestione in quanto Pozzallo non è un porto capoluogo di provincia.